ciao ragazzi allora ho un annuncio molto 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 importante da darvi allora ovviamente voi sapete che a giugno uscirà il terzo film della trilogia di jurassic world jurassic world il dominio bene allora è successa una cosa molto bella dopo anni finalmente voi avrete la possibilità di rincontrarmi dal vivo ora vi spiego bene nel dettaglio un po il tutto allora il 15 aprile di quest'anno quindi venerdì 15 aprile alle ore 21 a milano in centro a milano nel negozio di giocattoli fao schwarza un negozio famosissimo in tutto in tutto in tutto il mondo trovate questa faccia che vi presenta i giocattoli di mattel e lego di jurassic world il dominion infatti l'evento si chiama dominion day il giorno del dominio io vi aspetto a milano mi raccomando io sarò molto molto contento di incontrarvi quindi vi avverto una settimana prima così vi potete organizzare anche se abitate tipo mila romagna potete venire a milano incontrarmi ok facciamo foto tutto quello che volete ragazzi vi aspetto se siete appassionati di dinosauri come me venite non non mancate mi raccomando segnate ve lo mettete film promemoria sul calendario mettetevi una sveglia tutto quello che volete leo toys a milano negozio fao schwarz ore 21 venerdì 15 aprile 2022 vi aspetto ragazzi l'unica cosa che non vi ho detto è dove la figlia vi devo dire via orefici 15 il negozio fao schwarz milano in centro milano si trova in via orefici 15 quindi voi 21 ore 21 15 aprile voi vi recate negozio fao schwarz via orefici 15 trovate faccio che vi presenta tutte le cose che volete vi fa fare le foto tutto quello che volete voi vi saluto ciao ragazzi